Salve a tutti, io sono Nidio e questo è AlquattroPiù. Oggi parliamo di balene. Avete presente di recente abbiamo portato Cocorido? È un video che ha fatto discutere molto sicuramente, ma in realtà l'avete apprezzato più di quando avrei temuto veramente una balanga di commenti tipo ah siete immorali, per fortuna invece quel video è stato apprezzato da voi. Ed ecco perché oggi avremmo voluto portarvi un video simile, perché questo gioco si presterebbe tantissimo ad un video simile, ma purtroppo per la questione ora del Covid, che rispetto a quando abbiamo girato quel video è un po' peggiorata, ovviamente non possiamo registrarlo in questo periodo, ma secondo me, guardate addirittura in live su Twitch, questo ci potrebbe stare se un giorno riusciremo prima o poi a rivederci per registrare. Perché vi ho detto che stiamo parlando di balene? Perché questo gioco, ma in realtà questo, come anche questo, e come anche questo, non ho un modo migliore per prenderli, sono tre giochi della stessa serie che hanno in comune un'idea, ma che vi assicuro, nonostante quello che pensassi inizialmente, sono dei giochi strutturalmente abbastanza differenti l'uno dall'altro. In cosa consistono questi giochi? Principalmente costruire frasi. Per questo prima vi ho fatto la similitudine con Cocorido. Nel caso di Cocorido è puntare solamente a fare frasi, ammettiamolo, ammettiamolo candidamente, frasi volgari e far ridere di più gli altri. Bene, nel caso invece di questi ci si concentra anche un po' di più sulla questione del gioco, sull'attenzione un po' alla formulazione della frase in modo tale da prendere dei punti e così via. Ora, è difficile per me parlarvene in generale proprio perché ognuno di queste tre confezioni ha delle regole differenti. Come vi ho detto, l'idea di base è quella di costruire una frase e ciascuna di queste tre confezioni ha dentro, non mi ricordo quante carte, tante, che ha un bel po' di, non lo so, guardate, lo state vedendo quante carte ha. Ha un bel po' di carte e ciascuna delle carte ha due scritte su di essa. Per farvi capire iniziamo dal gioco base, diciamo da quello classico, che è questo, le balene in libertà. In questo caso l'obiettivo sarà quello di costruire tutti insieme, è competitivo, ma sarà quello di costruire tutti insieme una frase e di finire il prima possibile le carte che avete in mano. Ogni giocatore parte, mi sembra, con dieci carte in mano e a turno dovete giocare una carta per iniziare, continuare o concludere una frase che c'è sul tavolo. State vedendo degli esempi di frasi già concluse e voi durante il vostro turno dovete dire vabbè, ho questa carta, la potete girare in un verso o nell'altro, ma potrete usare ovviamente su ogni singola carta una sola delle due opzioni e la aggiungete a quella che c'è sul tavolo, perciò inizierete a formare la vostra frase. Frase che, attenzione, non importa che sia sensata, sì, un minimo di senso glielo dovete dare, cioè più che altro deve essere corretta da un punto di vista grammaticale. Se poi dite che il bagnino sta guardando le ciambelle per strada, cioè va bene, nel senso è una frase con poco senso, credo, ma va bene. L'importante è che siano frasi strutturalmente fatte bene e quindi con congiunzione, non è che potete inventarvele voi. Dovete piano piano costruire la frase. Non è un problema se non riuscite a mettere una parola. All'inizio sarà facile, avete dieci carte, quindi venti opzioni praticamente per continuare, in un modo o nell'altro qualcosa riuscite a mettere. Il problema inizia quando sarete a meno carte, quando avrete poche carte in mano, non avrete quella giusta, quella che magari vi piace di più. Quindi in quel caso non giocate e pescate una carta. Chi riesce a finire prima le carte vince la partita. Ovviamente una frase può essere conclusa, cioè quando voi giocate una carta potete dire, guardate, per me questa conclude... Rileggete la frase dall'inizio, per me questa conclude la frase. Se tutti sono d'accordo si può chiudere quella frase, cosa che non dà punti a nessuno. Semplicemente chiudete la frase e ne iniziate una nuova. Come fate però a stabilire se una carta che avete messo è giusta? Saranno gli altri a deciderlo. In che senso? Cioè, se nessuno vi dice niente, vabbè, voi avete giocato, si passa al giocatore successivo in senso orario. Però, quando gioco una carta, gli altri possono anche dubitare. Dovrebbero dire tipo, la hai sparata grossa come una balena. Ma insomma, basta che dire io, non mi torna a quello che hai detto. Non mi torna a quello che hai detto, allora si va a votazione. Torna alla maggioranza, torna la frase che è stata formata con quella nuova parola. Attenzione, la frase non vi potete mettere in dubbio qualcosa perché magari semplicemente non vi torna a voi come logica. Lo scimpanzé mangia castagne. Lo scimpanzé mangia castagne? Non lo so. Ma non vi torna che lo scimpanzé mangi castagne. Allora voi dite, all'aggiunta di castagne, dite no, questa non mi torna. Però gli altri diranno, no, guarda, comunque lo scimpanzé può mangiare castagne. Quindi alla fine si dice che va bene la frase. Le frasi che verranno fatte, allora, in realtà è difficile farle volgari ma è del tutto possibile. Io ve l'assicuro che comunque la malizia fa parte dell'essere umano e giocandoci vi assicuro che verranno fuori anche frasi volgari. Anche se di parolacce forse una o due ci sono ma veramente poche. Cioè di per sé non è un gioco che vi sprona a fare frasi volgari. Ma vi assicuro che l'essere umano ce la fa in un modo o nell'altro con i doppi sensi a farle. Le altre versioni invece differiscono molto da questa, se non che... Cioè la frase deve essere sempre costruita una frase, ma in modo molto differente. Cioè un'altra versione ad esempio è questo, le balene in volo. Questo è forse quello più complesso da un punto di vista proprio da giocare. Scusate sono stupido, sto parlando di questo. Ora mi vedrete con in mano quest'altro ma perché avevo tutte e tre le scatole qua davanti ho preso quello senza pensarci. Le scritte che ci sono sulle carte non sono solo delle parole, delle breve frasi. Sono delle parti di poesie famose o meno, ma per lo più famose, scritte da poeti altrettanto famosi. E poi in questo non è che dovrete anche qua comporre una poesia tutti insieme. No, questo invece è molto differente, è più personale. Cioè il giocatore proprio deve creare una poesia con le carte che ha in mano, quindi mette le carte in fila per creare una poesia e tra sé e sé dà un titolo a quella poesia. Un titolo che non deve comprendere una parola che c'è già nella poesia. Cioè, sempre caro mi fu quest'ermocolle e la donzelletta che viene dalla campagna, non posso chiamarla donzelletta. Devo inventarmi tipo pomeriggio. Un titolo a caso, un titolo insomma che deve essere comprensibile. E a questo punto con un sistema che sia tipo Dixit, se avete presente Dixit, voi dovete leggere la vostra poesia, spiegare agli altri giocatori la vostra poesia, leggere e spiegarla cercando di interpretarla così da far capire agli altri quale potrebbe essere il titolo che avete dato alla poesia. Tutti gli altri devono cercare di indovinare il titolo che avete dato e, ovviamente scrivendolo, cioè lo scrivono tutti contemporaneamente su un foglietto, girano al foglietto e se tutti hanno indovinato voi non prendete nessun punto. Se nessuno ha indovinato voi non prendete nessun punto. Però se gli altri, se qualcuno ha indovinato e qualcuno no, voi prendete un punto per ogni persona che non ha indovinato. Quindi voi dovete cercare di fare delle spiegazioni delle vostre poesie abbastanza chiare da far capire a qualcuno il titolo della poesia, ma non troppo chiare in modo tale non devono indovinare tutti. Da un punto di vista ludico è quello che mi ha convinto di più proprio per questo motivo. È difficile, nel senso è stimolante comunque creare le poesie, dare il titolo, rendere le personali a seconda della compagnia. sarà più o meno facile creare poesie e farle capire agli altri perché magari è appunto inventata una poesia totalmente stupida. Tutti e questi tre giochi sono estremamente fantasiosi, a seconda della compagnia potrete farli in modo del tutto innocente o in modo molto più cattivo. Mentre arriviamo all'ultimo, che è quello che tenevo per sbaglio prima in mano, scusatevi ho fatto questo errore, che è le balene in slang. Questo qua è quello forse più particolare e che a livello di linguaggio si avvicina di più a quello che è lo slang moderno, il modo di parlare dei giovani. Come struttura di gioco questo è quello meno strutturato. Questo, ecco, se vi dovessi dire Cocorido era solo per far divertire, questo pure. Anzi, se vogliamo è anche molto simile, nel senso che qua voi avrete delle carte con delle parole singole, parole in linguaggio moderno, che quindi può essere più adatto a una compagnia più giovane, ma sicuramente anche, insomma, nel senso io capisco tutte queste parole. Voi avete delle carte in mano, costruite delle frasi, in questo caso in modo molto più libero, nel senso che voi avete solo le parole, non dovete stare tanto attenti alle congiunzioni, potete aggiungere delle parole, declinarle, coniugarle, scusate, come volete, avete i verbi, potete fare un po' più di testa vostra, avete un po' più di libertà con le singole parole e dovrete creare delle frasi che siano divertenti e che alla fine tutti insieme leggerete le vostre frasi e verrà votata quella che è stata più divertente. Quindi più che da un punto di vista di gioco, le balene in slang è per divertimento, per puro divertimento. Bene, vi ho fatto un overview un po' di tutti e tre i giochi. Come avete visto differiscono molto l'uno dall'altro, pur essendo uguale il concetto di base. Quello che a me è piaciuto di più proprio perché da un punto di vista anche di gioco è quello più strutturato, sono le balene in volo. Non mi ha dispiaciuto neanche le balene in libertà, mentre devo dire che purtroppo con il tempo che ho in questo periodo le balene in slang non sono proprio riuscito a provarlo. Ve ne ho parlato quindi, avete sentito anche in modo un po' più generico, proprio perché questo non sono riuscito a provarlo, anche perché, io ovviamente sono stanco quando registro questi video e non dico le cose importanti all'inizio del video, il gioco è da tre giocatori in su, si potrebbe dire da tre a o, cioè potete in realtà giocare in quanti giocatori volete, se non fosse per il limite delle carte, ma davvero potete tranquillamente arrivare a otto, nove, dieci giocatori. Però appunto in questo periodo mi è difficile trovare tanti giocatori, ho trovato un giorno uno spazietto in cui sono riuscito a provare, peraltro in due giorni differenti, le balene in libertà e le balene in volo, purtroppo non sono riuscito a provare le balene in slang, quindi sono quello cui per ora mi sono affezionato di meno, ma semplicemente perché l'ho provato meno. È un tipo di gioco che avrebbe reso molto di più se ve l'avessi mostrato in gameplay, però questo periodo di covid, basta covid, basta covid, io vi voglio mostrare i giochi in azione, non voglio parlarvene, basta, che noia. Io ve li consiglio, tra l'altro il periodo natalizio secondo me può essere buono per provarli, e proprio per questo ci tenevo a mostrarveli, nonostante mi siano arrivati da un bel po' di tempo, ci tenevo a mostrarveli prima dell'inizio del Natale. Detto questo spero che il video di oggi vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.